34. I Dali partirono poco dopo mezzogiorno e anche Winter fece ritorno nel calesse di Sererri alla casa dei Vaiesteros. Suo marito le dissero era ancora coricato. C'era stato un party la sera prima, non molto grande, una mezza dozzina di sahibi in tutto, ma erano rimasti alzati fino alle ore piccole. Nonostante la stagione ormai avanzata, ogni porta e finestra del grande salotto era spalancata, ma l'aria rovente del mezzogiorno e il profumo dei fiori in vaso non riusciva a nascondere l'odore stagnante di sigaro, di brandy, oltre un altro vago odore che a Winter ricordò Azrat Bag. Nella stanza c'era anche una cosa che non c'era mai stata prima, un grande copriletto di velluto un po' stinto evidentemente preso da una delle camere al piano di sopra, che ricopriva accuratamente il ritratto di Don Cristóbal de Vaiesteros dipinto da Velázquez. Winter lo guardò perplessa, quindi mandò a chiamare Moder Khan, il capo dei servi. L'uomo sembrava imbarazzato ed evitava il suo sguardo. Gli usor spiegò in tono di scusa, erano di umore allegro e così per gioco avevano danneggiato un po' il ritratto, l'avrebbe fatto togliere, tranne che anche il muro. Winter lo congedò bruscamente, si avvicinò al ritratto e tiro via la coperta verde oliva. Solo allora capì perché mai l'odore stagnante nella stanza le aveva fatto pensare ad Azrat Bag. Conway e i suoi ospiti avevano usato il grande ritratto come bersaglio e la cupa bellezza della splendida tela era disseminata di proiettili che, dopo averla trapassata, erano andati a conficcarsi nella parete retrostante. Guardando quello scempio, Winter si sentì invadere dalla rabbia e dall'impotenza come si permetteva di fare una cosa del genere nella casa di suo padre ai pavos reales, come si permetteva di portare i suoi amici volgari e ubriaconi e le sue sgualdrine da quattro soldi in quella splendida casa piena di pace. Furiosa uscì dalla casa e si rifugiò sulla terrazza lungo il fiume. Non lo sopporto, pensò fissando l'acqua. Non lo sopporto. Ma che cosa poteva fare? Né la chiesa né la legge avrebbero consentito a liberarla dal vincolo matrimoniale e ancora una volta Winter ripensò a ciò che la signora Gardner Smith le aveva detto. La legge sarebbe sempre stata dalla parte di Conway. Andrò in collina, decise Winter, subito, oggi stesso. Perlomeno questo dovrebbe far piacere ad Alex oppure... oppure mi sbaglio. No, a lui non interessa che io vada perché sono io, solo perché sono una delle donne delle quali non vede l'ora di sbarazzarsi per essere più libero nelle decisioni in caso di crisi. Già, Alex è convinto che ci sarà una crisi. Anche se Henry e Amira, lei ha solo paura di suo marito? O per suo marito? Improvvisamente la sua rabbia e la sua disperazione svanirono. Se effettivamente in India stava maturando una crisi di quel genere, le difficoltà nelle quali si dibatteva lei erano assolutamente insignificanti. E in un momento come quello non poteva certo aggiungere ai problemi che già gravavano sulle spalle di tutti gli uomini più responsabili anche quello di uno scandalo nell'angiore e all'acno? Conway intendeva tornare nell'angiore alla fine del mese, sarebbe andata con lui e avrebbe fatto in modo di partire per Simla o per Nainital verso la metà di maggio. Fino a quel momento non avrebbe dovuto fare nulla, tranne la cosa più difficile di tutte, aspettare. Erano le prime ore del pomeriggio, il momento più caldo e sonnolento della giornata. Pochi si avventuravano all'aperto. La terrazza lungo il fiume era completamente deserta sotto la luce implacabile del sole. Tutto era immobile, all'infuori del fiume che scorreva silenzioso e di una barca solitaria che navigava lenta con la corrente. Era una tipica barca locale, dal fondo piatto con un tetto di foglie per offrire un riparo dal sole. Al remo c'era un vecchio malandato coperto con i pochi stracci dei pescatori. La barca scivolò silenziosamente lungo l'argine andandosi a fermare contro i gradini della terrazza. Il tonfo che produsse risuonò come una cannonata nell'immobilità del pomeriggio e Winter si avvicinò alla balaustra per guardare. Una donna, parzialmente velata, sbirciò dalla tenda e i due occhi sospettosi percorsero la banchina finché non incontrarono Winter. Subito quegli occhi si dilatarono per lo stupore e una mano oscura le fece cenno di avvicinarsi. C'era qualcosa di così furtivo eppure di così urgente in quel gesto che Winter involontariamente si girò per guardarsi alle spalle. Ma la terrazza e il parco erano completamente deserti. Neppure una farfalla volava nel sole eccecante. Winter si diresse verso i gradini, quindi esitò. In giro non c'era anima viva e in fondo lei non sapeva chi si trovasse in quella barca. Ancora una volta la mano le fece imperiosamente cenno di avvicinarsi e lentamente Winter scese i gradini e si infilò nell'ombra scura della tettoia. La sconosciuta lasciò cadere per un attimo il ciudà e Winter vide che era Amida. Ma non era la sua. La mano morbida e scura che fra un tintinio di braccialetti d'argento si sporse a prenderla per il braccio. Sei tu Amira? Proprio io che rida. Amira parlava stentatamente in spagnolo. In verità la fortuna è dalla mia parte. Non speravo proprio di trovarti qui. Amida doveva venire a cercarti a casa. Sono venuta a quest'ora perché sapevo che pochi sarebbero stati in giro e non posso fermarmi a lungo. Parlava in tono così basso e allarmato che Winter le chiese brusca. Che c'è? Che cosa è successo? Niente. Per il momento ancora niente. Ma non potrò più venire a trovarti. Non è più sicuro né per me né per te. E se venisse a sapere che sono qui adesso... La voce le si ruppe in un tremito e improvvisamente la fosa oscurità di quel piccolo riparo, la splendente immobilità della terra e dell'ampio fiume furono gravidi di paura. Persino il lieve sciabordio dell'acqua sotto il fondo di legno della barca sembrava pregno di oscure minacce. Winter prese la mano di Amira tra le sue e la strinse. Dimmi che cosa è accaduto. La voce della giovane si abbassò in un bisbiglio. Non posso più tornare ma non potevo, non potevo mandarti un messaggio per paura che non ti arrivasse o che tu non ci credessi. Devi andartene che rida, in fretta, molto in fretta. Qui c'è pericolo per tutti coloro della tua razza? No, non solo all'Aknau o nell'Oud ma in tutta l'India. Ho udito certe cose, certe cose che non oso riferirti ma sto dicendo il vero. Soltanto ieri sulle porte di Delhi è stato trovato un proclama che diceva che lo zar manderà un esercito per spazzare via tutti gli inglesi e... Ieri? La interruppe Winter. Ma come fai a saperlo? Ci sono più di 200 miglia da qui a Delhi. Ci sono molti modi, sussurrò Amira. Le cattive notizie viaggiano in fretta e ce ne sono tante di cattive notizie. Ecco perché sono venuta a dirti che devi andartene. Non sulle colline ma al mare e imbarcarti su una nave che ti porti immediatamente nel tuo paese. Il mio paese è questo. No, no, non lo è, esclamò Amira con forza. Io sono di questa terra ma tu no, per amore tuo, perché abbiamo giocato insieme da bambine e poiché tuo padre era fratello di mia madre tradisco il mio popolo mettendoti in guardia. Lentamente Winter le disse devi dirmi di più, non posso andarmene solo per questo, io sono una donna sposata, devo rispondere a mio marito, non puoi dirmi. Non posso dirti nulla, nulla, ho già detto troppo. Anch'io amo mio marito eppure il suo cuore è lontano da me a causa del sangue di mia madre che scorre nelle mie vene. Non credi forse che se potessi me ne libererei per amor suo. Tornerà a volermi bene, ne sono certa. Come potrei vivere se non lo pensassi ma gli uomini non sono come noi. L'uomo è tutto per noi ma per loro l'amore non è che una piccola parte della loro esistenza. Se sapesse che ti ho riferito qualcosa mi ucciderebbe, ucciderebbe me, la donna che ha portato in grembo i suoi figli e che ama. Winter si accorse che il volto di Amira era atteso e segnato dal terrore. Doveva saperne di più, doveva sapere quando, ma c'era ben poco di occidentale in quella Amira che una volta era stata Anne-Marie. Il suo amore e la lealtà erano ormai per il marito e per quelli della sua razza non avrebbe detto più del necessario, dello stretto necessario. Cautamente sforzandosi di scacciare l'ansia dalla propria voce Winter disse cercherò di andare ma non sarà facile farlo così presto. Torneremo nell'angiore alla fine del mese. Io avevo pensato di partire per le colline a metà maggio. No, non sulle colline, supplicò Amira. In Inghilterra neppure sulle colline sarai al sicuro. Ci vogliono tre settimane per arrivare a Calcutta, le fece notare Winter lentamente. Questo lo so, non ti ho forse detto che devi partire immediatamente, entro la prima settimana di maggio. Winter lasciò andare la mano che stringeva fra le sue e attanagliata dal terrore esclamò, ma sarei al sicuro viaggiando. Se c'è pericolo non è meglio che resti dove ci sono i reggimenti, non ti accadrà nulla prima dell'ultimo giorno di maggio, ma dopo non ci sarà sicurezza da nessuna parte, meno di tutto là dove ci sono dei reggimenti. Allora andrai, promettimi che andrai. Winter trasse un profondo respiro e si accorse di avere le mani bagnate di sudore, un sudore che non aveva nulla a che vedere con la calura soffocante di quella piccola imbarcazione. Aveva ottenuto ciò che voleva. Si protese in avanti e baciò lievemente la cugina. Cercherò, Kerida, ma se mio marito non verrà con me, non potrò andare. In quel caso va in collina, forse servirà, non so, ma adesso devo andare, sono già stata qui troppo a lungo. Arrivederci, Kerida. Senza rendersene conto passò all'Indostano. Addio, piccola perla, non dimenticarti di me. Pagherò i miei dei, pregherò i miei dei e la Vergine Maria, che anche lei è una donna e forse mi darà ascolto per il tuo bene e la tua salvezza. Con le guance rigate di lacrime si avvinghiò per un attimo a Winter, quindi si staccò da lei e l'allontanò bruscamente. Adesso va, vai, in fretta. È tardi. Amida, di al mangi di affrettarsi. In piedi sulla banchina assolata, Winter restò a guardare l'uomo che con il remo allontanava la barca dall'argine, riportandola nella corrente, quindi alzò la mano in segno di saluto. Amira aveva rischiato la vita per portarle quell'avvertimento. Il solo pensiero la faceva rabbrividire. Tremando, sollevò la mano per proteggere gli occhi dalla luce, ma la barca non c'era già più e il fiume scorreva tranquillo come se nulla fosse accaduto. E se qualcuno avesse visto la barca fermarsi ai gradini? C'erano tanti occhi in India, ma Amira aveva visto giusto. Quella era allora più sicura nella stagione calda, più sicura della stessa notte, quando ogni albero e ogni arbusto e ogni ombra poteva celare un paio di occhi. No, non c'era nessuno sulla banchina, né nei giardini del parco. Era assurdo avere paura. Eppure aveva paura. Immobile, Winter restò in contemplazione della terrazza deserta e dell'ampio fiume, come sua madre Sabrina in una sera lontana di quasi 18 anni prima. E Winter, come Sabrina, si sentì travolgere da un'improvvisa ondata di orrore per l'India. Per quella terra selvaggia e straniera che la circondava per centinaia di migliaia di chilometri. Sconfinata, eppure soffocante. Per quegli occhi scuri e sospettosi, per quelle menti tortuose e imperscrutabili che si nascondevano dietro volti privi di espressione. Devo essere prudente, si disse Winter, molto prudente, non solo per me, ma anche per Amira. Se solo Alex fosse stato ancora lì, si chiese se non fosse il caso di scrivergli e subito si rese conto di non poter correre quel rischio. Non aveva paura per se stessa, forse perché era troppo giovane per poter concepire la propria morte, o forse perché in quel momento la sua vita non valeva granché ai suoi occhi, ma Amira aveva tante cose per le quali vivere e Winter temette per lei come mai avrebbe temuto per se stessa. Devo essere prudente, ripeté questa volta ad alta voce nella vastità impregnata di sole della terrazza lungo il fiume. Prudente, sussurrò l'eco rimbalzando lungo la banchina di pietra. Per tre interminabili giorni Winter non fece nulla, ma il quarto giorno ebbe l'occasione giusta quando in compagnia di suo marito fu invitata a un ricevimento alla residenza. Era un grande ricevimento, grandi tendoni variopinti erano stati rizzati sui prati e dai rami degli alberi pendevano lanterne colorate. La banda di uno dei reggimenti di stanza nell'accantonamento suonava per gli ospiti che superavano le parecchie centinaia. Indubbiamente l'ospite più spettacolare, quello che sollevava maggiore interesse non solo agli occhi di Winter era Dundupant, il Nana del Bitaur, intervenuto al ricevimento con un seguito incredibilmente numeroso. Il Nana aveva particolari motivi di rancore nei riguardi degli inglesi, poiché il governo aveva rifiutato di riconoscerlo come re del legale del Peshwa Bajerao, che non avendo figli lo aveva adottato secondo la legge hindù. Ciò nonostante non sembrava particolarmente ostile, al contrario si comportava in modo giuviale con la maggior parte degli ospiti britannici, con alcuni dei quali sembrava essere in ottimi rapporti. Era un uomo grasso, stranamente scuro di pelle, per un Maharata e abbigliato sontuosamente. Alle orecchie portava un paio di orecchini di brillanti. Alex, se fosse stato presente, non avrebbe riconosciuto quegli orecchini. Quelli che aveva visto lui erano di rubini, ma avrebbe certamente riconosciuto colui che li portava. Se Henry, ovunque andasse, era circondato da uno stuolo di visitatori ed era impossibile riuscire ad avere un colloquio privato con lui. Così, Winter si rivolse a George Lawrence con la scusa di portarlo ad ammirare le rose del giardino. «Ho qualcosa da dirvi», gli disse stringendogli eloquentemente il braccio pur mantenendo un'espressione cordiale sul volto. «In realtà desideravo parlare a Serenri, ma sarebbe impossibile farlo privatamente, dunque dovrete riferirgli quanto vi dirò». Sollevò lo sguardo verso il suo compagno e proseguì. «Vi prego, volete sorridere come se vi stessi raccontando qualche facezia?» Lei stessa rise per sottolineare le sue parole. Docilmente George Lawrence accennò un sorriso piuttosto perplesso mentre Winter gli riferiva all'episodio del fiume. Il racconto che ne seguì fu piuttosto confuso, ma George Lawrence si rese conto che la giovane signora Burton era terribilmente allarmata e senz'altro sincera. «Quando riferirete queste cose a Serenri, dovrete accertarvi di essere assolutamente soli», lo implorò Winter. «Non voglio che diciate a nessuno la fonte delle notizie. È la verità. Ditegli che sono assolutamente certa che è la verità. Amir ha rischiato la vita per mettermi in guardia e io stessa sto rischiando la sua dicendola a voi. Ditelo a Serenri». Mentre parlava gli sorrideva, ma i suoi occhi immensi scintillavano di paura e disperazione. «Glielo dirò», promise George Lawrence. «Ma non voglio che vi allarmiate troppo. Di questi tempi corrono troppe voci. C'è stato molto malcontento nell'ou da causa di questa annessione condotta piuttosto sconsideratamente, ma Serenri sta cambiando le cose e sono più che certo che questo uragano passerà come altri sono passati». Passerà? È passato. Negli uffici, nelle residenze, nelle abitazioni private e persino in quella del generale stesso. Ovunque gli inglesi si incontrassero, quelle parole rassicuranti venivano pronunciate più volte. La rivolta di Berhampur di febbraio e quella ancora peggiore di Barakpore erano rientrate senza ulteriori dimostrazioni di ostilità e uomini che avevano fiutato il pericolo erano ormai tornati a rilassarsi, cercando di convincersi che l'allarme era ormai passato. Winter non ebbe più notizie di Amira Malotti, le scrisse da Deli. Edward era stato trasferito laggiù in servizio speciale, ma non vivevano nell'accontonamento. Avevano affittato una casetta deliziosa in città, non lontano dal Kashmir Gate. Temo che la mamma sia un po' delusa per il fatto che non sono andata a stare con lei e il babbo, scriveva Lotti, ma vedo così poco Edward che voglio averlo tutto per me quando non è in servizio. Sophie è stata a far visita ad alcuni amici a Caunpore e tornerà verso il 15 del mese prossimo. Per il momento non fa ancora troppo caldo e se il clima non peggiora penso che non mi darà molto fastidio. Vorrei tanto che venissi a trovarmi. Sarebbe magnifico rivederti. Devi assolutamente venire con la stagione fredda. Avrò un piccolo Edward da mostrarti allora. Ancora non posso crederci. La mamma ti manda tutto il suo affetto. Leggendo quella lettera Winter pensò di nuovo ad Amira e a George Lawrence. Chi dei due aveva ragione? Le notizie di Lotti la turbarono perché Winter aveva pensato che almeno lei fosse al sicuro. Ma che cosa ne sarebbe stato di lei a Deli? Immediatamente rispose a Lotti raccomandandole per il suo bene e per quello del bambino di andare in collina e di portare con sé anche Sophie. Quindi scrisse anche a Edward English e alla signora Abbottnot pregandoli di convincerla ad andare a trascorrere i mesi più caldi insieme con lei in un bungalow fra i pini. Ma non ci fu nulla da fare. Durante il suo ultimo giorno a Lacknow Winter tornò sulla terrazza lungo il fiume. Faceva più caldo del giorno in cui aveva visto Amira. Attorno a lei il silenzio era profondo e persino i pavoni se n'erano andati. Sulla terrazza c'era solo Winter e la sua ombra si disegnava nera e netta sul terreno lastricato. Prima di salire sulla carrozza che l'avrebbe ricondotta nel langiore Winter lanciò un'ultima nostalgica occhiata alla cassa dello spavos reales guardando gli alberi di limoni di aranci e melograni la distesa serena e ombreggiata del parco che digradava dolcemente e che così poco era mutata con il trascorrere degli anni. Winter pensò come già Sabrina aveva fatto forse non li rivedrò più ma senza l'amore e il desiderio che avevano pervaso la madre. Quella squisita serena di Mora non rappresentava per lei ciò che aveva rappresentato per Sabrina. Per lei non racchiudeva né ricordi né felicità. Per Winter era il Gulab Mahal che racchiudeva tutto questo ma le porte del Gulab Mahal erano sbarrate per lei. 35. Era la sera dell'ultimo giorno di aprile quando il commissario e sua moglie attraversarono una volta di più il massiccio portale della residenza del langiore e appena due ore più tardi già cenavano con la stessa chiassosa compagnia che aveva festeggiato il loro matrimonio. Non è cambiato nulla pensò Winter con disperazione è tutto come prima è come se non fossi mai partita da qui ma non era vero lei era cambiata quella compagnia rumorosa e volgare e la vista del marito con il braccio attorno alla vita di Chrissy Wilkinson non avevano più il potere di ferirla. Una notte nel giardino della residenza di Lucknow e un pomeriggio sulla terrazza lungo il fiume alla cassa dello Spavos avevano operato quel cambiamento ormai Winter sentiva il vento e udiva il tuono. Se Amira aveva ragione tutte quelle persone sarebbero forse morte nel giro di pochi mesi meno forse l'ultimo giorno di maggio aveva detto Amira. L'indomani era il primo maggio ancora 30 giorni ma aveva poi ragione Amira oppure aveva ragione George Lawrence passerà passerà è passato era vero? Il mattino seguente Winter non uscì a cavallo gli animali avevano bisogno di riposo e anche lei dormì fino a tardi però dopo aver fatto colazione scrisse ad Alex fu un biglietto breve il primo che gli avesse mai scritto lo consegnò a un servo che la informò che Randall Sahib era accampato in uno dei villaggi vicini in questo caso qualcuno dovrà portarglielo replicò Winter mandami Yousaf. L'uomo la fissò con espressione subdola attraverso le palpebre socchiuse quindi uscì per chiamare lo stalliere ma quell'espressione aveva spaventato Winter facendole comprendere per la prima volta ciò che un'insurrezione nel paese avrebbe significato. Winter aveva avuto fiducia nei servi della casa di suo padre all'Aknau eppure era stata prudente con loro nel timore che qualcuno potesse interrogarli e se era stata prudente laggiù avrebbe dovuto esserlo doppiamente lì. Stracciò la lettera che aveva preparato ne bruciò i frammenti e ne scrisse un'altra non che non si fidasse di Yousaf ma preferiva non correre rischi. Porse la lettera allo stalliere dicendogli con voce sufficientemente alta da essere udita dal punka kuli e dal giardiniere intento a tagliare alcuni fiori sotto la veranda che un amico del capitano sahib incontrato all'Aknau desiderava incontrarlo per una battuta di caccia. Il sahib andava dunque informato nel caso desiderasse tornare. Yousaf partì al galoppo con la lettera e Alex la lesse quella sera stessa. Non erano che due righe eppure le lesse e rilesse parecchie volte prima di ripiegare il foglio con cura e infilarlo nella tasca interna della giacca. Emise un fischio modulato e Nias si immaterializzò dal nulla. Rientriamo domani gli annunciò Alex. Nias inarcò le sopracciglia ma non fece commenti se non per chiedere a che ora si sarebbero messi in cammino. Di al cautal che lo vedrò domani all'alba ci sono ancora alcune cose che non possono aspettare. Partiremo non appena le avremo sbrigate. Yousaf dove? Usor? Una seconda figura emerse dall'oscurità e si chinò nel saluto formale. Di al amem sahib che rientriamo domani o il giorno seguente. Yousaf tornò a inchinarsi e scomparve nell'oscurità mentre Alex rientrava nella tenda e spegneva la lampada che stava attirando troppi insetti. Nias aveva preparato il letto da campo all'aperto e più tardi mentre attraverso la zanzariera contemplava lo scintillio delle stelle. Alex vide passare una cometa diretta da est verso ovest. Non si trattava di una semplice stella cadente bensì di una cometa che procedeva lentamente trascinandosi dietro una coda che sullo sfondo della notte appariva più rossa che bianca o dorata. Ci volero dieci minuti buoni perché compisse tutto l'arco del cielo. A una decina di metri alla sua sinistra Alex udì Nias agitarsi e vedendo la sua testa sollevata nell'oscurità si rese conto che anche lui aveva visto. Diranno che è un segno, un presagio, penso Alex e chi potrebbe biasimarli. Una stella rossa che si trascinava dietro una scia di sangue da est a ovest. Ma al mondo esistevano davvero presagi e portenti del cielo. Una volta una stella aveva portato l'uomo saggio fuori dall'oriente alla ricerca di quella spada che era stata sguainata tanti secoli prima e che ancora non era stata rimessa nel fodero. Che il futuro fosse scritto nelle stelle era forse la superstizione più antica del mondo e da oltre 3.000 anni uomini saggi contemplavano i cieli convinti che in essi fosse scritto il loro destino. In quella stagione era possibile che molti uomini dormissero all'aperto, nei giardini, sui tetti oppure accanto alla porta delle loro capanne. Quanti fra loro avevano visto la cometa rossa e quanti fra loro sarebbero stati pronti a giurare che era un segno del cielo. Un segno foriero di sventure, non a causa del colore, poiché in oriente il rosso è il colore della gioia, ma perché sventure e malvagità erano nei tempi e nei pensieri degli uomini. A un centinaio di metri di distanza un cane randaggio puntò il muso tozzo verso il cielo ed emise un lugubre latrato, un ringhio, che fu ripreso e ripetuto ancora e poi ancora in un coro lamentoso da tutti i cani del villaggio. Vicino alla cisterna e al boschetto di Manghi, accanto al quale era accampato Alex, un puntino luminoso furò l'oscurità, poi un altro e un altro ancora. Subito dopo un corno ululò nel tempio e un tamburo prese a rullare, l'hanno vista, si disse Alex. È così che nascono le leggende, quindi udini a sborbottare qualcosa sicuramente di poco lusinghiero per gli abitanti del villaggio a giudicare dal tono della sua voce. La cometa dalla coda rossa si tuffò dietro gli alberi di mango mentre il suo riflesso indugiava ancora per pochi giorni nelle acque scure della cisterna. Poi il bagliore si spense, i cani smisero di latrare come obbedendo a un ordine, ma il corno continuò a ululare e il tamtam a battere mescolandosi ai suoi sogni agitati. Alex si mise in cammino per il langiore solo alle prime ore del pomeriggio seguente in compagna di Nias, lasciando gli altri servi a disfare le tende e a occuparsi dell'accampamento mentre il sole si tuffava dietro l'orizzonte. I due uomini si fermarono per mangiare e mentre smontavano di sella un piccione solitario inseguito da un falco si sollevò sopra le loro teste in un volo tortuoso e disordinato per tuffarsi pesantemente fra i rami di un grande albero di pipul all'estremità opposta della cisterna. Uno stormo di cornacchie si levò improvvisamente in volo dalla chioma dell'albero, gracchiando raucamente e mettendo in fuga il falco. Un istante dopo il piccione, apparentemente ignaro di essere scampato per un pelo a morte certa, sparì fra un frullare di ali, dietro una grande pietra piatta coperta di muschio, ai margini della cisterna, per dissetarsi. Un istante dopo, però, ne riemerse come se qualcosa l'avesse impaurito e Alex e Nias lo videro svolazzare qua e là come perplesso, quindi puntare verso occidente dove il cielo, imporporato dalla luce del tramonto, già prendeva pallide tinte violette. Socchiudendo gli occhi, Alex fissò la pietra oltre la cisterna nel tentativo di scoprire che cosa avesse spaventato l'uccello. Improvvisamente si rese conto che fra le radici putride dell'albero di Pipul sedeva un uomo immobile, un sadu seminudo imbrattato di cenere che sarebbe potuto essere parte dell'albero stesso. Eppure, nonostante la sua immobilità, il piccione aveva avuto paura, poteva trattarsi di un incidente senza importanza, ma per il resto della cavalcata Alex non riuscì a scacciarselo dalla mente. Era buio ormai quando raggiunsero il bungalow. Alex si infilò una divisa bianca e si incamminò verso la residenza. La grande costruzione scintillava di luci e davanti all'ingresso c'era un calesse. Ancora ma Olson, pensò Alex, e anche Ghidni e Motis, a me immagino. Fece un cenno di saluto al ciao Kidar e salì i gradini della veranda. Un servo si affrettò a sollevare il cic che schermava la porta e mormorò che gli usor stavano giocando a carte nel salottino, mentre la Mem Sahib era in salotto. Winter sedeva su un divano con un libro tra le mani, ma era evidente che aveva sentito la voce di Alex. Sedeva impettita e sorrideva. Era un sorriso mondano, il sorriso che un'attrice avrebbe potuto esibire per esprimere una gradita sorpresa. Alex si domandò se per caso quel sorriso non fosse a beneficio di Rasul, il servo che lo aveva introdotto. Istintivamente fiuttò il pericolo e come prese la mano che Winter gli tendeva, seppe che aveva ragione. Le sue dita erano fredde, tremavano e si aggrapparono per un attimo alle sue. Con voce Gaia, nella quale vibrava la stessa sorpresa che le illuminava il viso, Winter esclamò «Gentile da parte vostra venire subito. Mi auguro che non sia stato un inconveniente troppo grave, capitano, ma un vostro amico che ho incontrato all'Aknau mi ha consegnato un messaggio per voi». Il suo sguardo indugiò sul servo che aspettava sulla soglia. «Porta da bere per il Sahib, Rasul». «Hukum», mormorò Rasul chiudendo silenziosamente la porta alle spalle. «Sedetevi, capitano Randall», lo invitò Winter. «Avete cavalcato molto oggi? Temo che in questo momento mio marito sia occupato. Una partita a carte, lo sapete anche voi, quanto inglese capiscono queste persone. Non mi aspettavo di vedervi fino a domani». Quindi rise come se avesse detto una cosa molto spiritosa. Improvvisamente gli occhi di Alex si strinsero fino a diventare due fessure e quindi senza la minima esitazione rispose «Non avevo granché da fare laggiù e faceva molto caldo, molto più di quanto si pensi». Vide l'impercettibile sospiro di sollievo di Winter e sorrise. Davvero aveva temuto che potesse fraintendere il suo biglietto e chiedere le spiegazioni? La donna lanciò un'occhiata ansiosa alle due porte che davano sulla veranda. Entrambe erano schermate dai chic che dovevano impedire ai pipistrelli e agli insetti notturni di entrare in casa, attratti dalla luce, ma dietro, Alex lo sapeva, c'erano almeno tre e servi. Scosse appena il capo mentre la porta si apriva silenziosamente e Rasul compariva con un vassoio. «Sì, lo pensavo anch'io», replicò Winter. Il signor Brown desiderava sapere se la caccia è buona qui nell'angiore in questo periodo dell'anno. Presto avrà alcune settimane di licenza e stava pensando di venirle a trascorrere qui. Gli ho detto che non potevo esserne certa, ma che ve lo avrei riferito e che voi gli avreste scritto. Rasul versò da bere e si ritirò, ma Alex continuò a parlare del più e del meno per un altro quarto d'ora, qualunque fosse la cosa che Winter desiderava dirgli, non aveva intenzione di ascoltarla in quel momento. Aveva ottenuto suo scopo e nessuno, sentendo il tono della sua voce e la sua risata superficiale, avrebbe sospettato che qualcosa la turbasse. Terminò di bere e si alzò. «Devo dire alcune cose al commissario, se volete scusarmi. Uscite a cavallo domani?» «Sì, prima delle cinque. Fa troppo caldo ormai per cavalcare dopo il sorgere del sole. Dovreste andare verso il fiume», le disse Alex. «Fa più fresco laggiù. Forse ci incontreremo. Buonanotte», signora Burton. Non ci furono segni nel cielo quella notte e i cani randaggi tacquero, ma non la città. La città era sveglia e inquieta. I tamburi rullavano e i corni ululavano, come già avevano fatto nel villaggio, oltre la cisterna. E sulla strada che passava davanti alla residenza ci fu un insolito andirivieni. «Ei Ramadan», osservò Nias, «ma sembrava disagio e preoccupato». «È di Wani, follia», replicò Alex. Quindi, mentre Nias si accingeva ad andarsene, aggiunse «Usciremo a cavallo prima del sorgere del sole. Porta un fucile». «Quale? Andiamo a caccia di pernici o di antilopi?» «Di piccioni», precisò Alex, secco. «Ah!» Udendo il tono di Nias, Alex si girò di scatto. «Dunque anche tu hai visto?» «No, era troppo lontano, ma quel santone non voleva che vedessimo l'uccello e così gli ha detto di andarsene. Al che mi sono chiesto...» «Anch'io», lo interruppe Alex. «Aveva visto fenomeni simili prima di allora e non lo meravigliava che un uomo potesse ordinare a un uccello di andarsene senza emettere un suono né fare un gesto. Aveva sentito dire che anche la piccola silenziosa Zebon Nissa, la nipote di Akbar Khan, poteva farlo». Grazie!